ciao a tutti ragazzi ciao a tutte ragazze benvenuti e bentornati sul mio canale il video di oggi un video in collaborazione con oceans appart brand che mi ha contattato per questa collaborazione in passato già ero stata contattata da loro avuto una bella collaborazione lo scorso anno sono stata veramente molto molto felice nuovamente per essere stata contattata da loro perché i loro capi sono veramente di una qualità altissima ma prima di iniziare con darvi tutte le indicazioni e mostrarvi le cose che ho ricevuto ci tenevo a darvi qualche informazione su oceans appart oceans appart è in realtà un brand che nasce con lo scopo di elevare quella che è la bellezza interiore e esteriore di ogni individuo con attraverso i loro capi capi che sono realizzati veramente con una qualità altissima in passato come vi ho detto ho avuto già modo di collaborare con loro quindi ho veramente modo di confermare tutto ciò i loro capi sono realizzati non soltanto per chi fa palestra quindi non abbiamo soltanto sport wear ma abbiamo anche l'ange wear proprio perché sono finalizzati non soltanto a chi fa sport come me ma anche a persone che magari vogliono acquistare dei capi da utilizzare non so per uscire per fare una passeggiata o semplicemente per stare comodi in casa e sentirsi veramente a proprio agio io ho avuto modo questa volta di scegliere tra i vari set due set che mi piacessero particolarmente e la mia scelta è ricaduta su questi set che adesso vi mostrerò ci tengo a dire prima di mostrarvi capi e prima di dare il codice sconto che ho ricevuto da loro ci tengo a dirvi quelle che sono in realtà le taglie che ho scelto io ho scelto una taglia s sia per i bra ma anche per i leggins avrete poi modo di vedermi qui a fianco con i capi indossati così da capire anche un po la vestibilità ci tengo poi anche a dire quella che è la mia altezza e il mio peso non per condividere i miei dati ma semplicemente per tenerlo in considerazione magari con la mia statura e quella che può essere la vostra qualora siete interessati ovviamente ad acquistare questi capi o altri set io sono alta un metro e 59 lo so sono una nana e peso 57 kg e mezzo 58 oscillo ecco quindi diciamo questa è la mia corporatura e in base a questo io ovviamente ho preso una taglia s allora inizio subito col mostrarvi il primo set che ho scelto questo qui si chiama sidney set ovviamente mi lascio tutto qui sul sullo schermo e questo qui in particolar modo è il sidney set sette ottavi per i per i pent quindi per il pantalone e il bra ovviamente è in taglia s entrambi li ho scelti in questo colore bellissimo che è dark ok è un colore che io amo particolarmente non amo tanto i i colori caldi intesi come aranciati o color ruggine ma il marrone inteso come colore della terra comunque questo bellissimo marrone scuro a me piace tantissimo trovo che sia molto molto bene a chi ha un incarnato chiaro come il mio ea chi fa parte come stagione armocromatica della stagione invernale inverno profondo inverno insomma inoltre trovo che questo set magari con un po di abbronzatura vada a elevare ancora di più quello che è proprio il corpo la la bellezza estello ecco in ogni modo il bra è fatto in questo modo in questo bellissimo marrone è fatto a costine vedete all'interno anche i ped che sono appunto questi due cuscinetti che possono tranquillamente essere rimossi qualora non li volete e è fatto appunto in questo modo al logo qui in alto sulla sinistra e sul retro poi ha ovviamente il ma il brand di oceans apart i pantaloni invece che sono appunto questi leggins in una lunghezza di 7 ottavi quindi non sono proprio lunghi ma sono un po più corti della caviglia sono fatti in questo modo allora hanno questa banda larga elasticizzata diciamo fatta sempre a costine scendono poi dritti hanno il logo di oceans a parte qui sul ginocchio e scendono poi in questo modo la particolarità di questi pantaloni secondo me è il retro perché a queste cuciture che vanno proprio a avvolgere il vostro sedere e soprattutto elevarlo a me personalmente piacciono tantissimo già in passato durante la scorsa collaborazione avuto modo di prendere due set sempre sidney però uno era in un colore blu e un altro era in un color carta da zucchero mi si sono trovata molto molto bene ricordo però quella volta di aver preso una taglia m perché ero leggermente più cicciottelle invece questa volta optato per una taglia s il secondo set che secondo me è il più bello perché il più particolare e invece questo shania zip set deluxe che è composto da tre pezzi il primo pezzo è ovviamente il bra ed è secondo me la cosa più particolare di tutto al set tutte e tre pezzi di questo set sono in questo bellissimo colore che è un vero e proprio deep plump lo definisce ce n'erano anche altre colorazioni per io ho optato per questo perché trovo che stia molto molto bene su di me il bra è fatto in questo modo anche questo ovviamente i dischetti rimovibili a questo taglio particolare vedete fatto in questo modo che va letteralmente ad elevare e saltare il vostro seno e sul retro poi anche questa cucitura fatta in questo modo a differenza dell'altro set questo qui ai logo di oceans a parte dello stesso colore appunto del materiale quindi è leggermente più fine direi i leggins poi di questo set sono anche anch'essi molto particolari sono dello stesso colore fatto in questo modo e sono molto molto belli scendono dritti questo leggins qui rispetto a quello dello scorso set è leggermente più avvitato più elasticizzato ma anche questo a vita alta anche sui leggins proprio come il bra il logo è fatto vedete in questo modo sul retro dello stesso colore e la particolarità di questi leggins sono appunto queste due taschine laterali all'interno delle quali potete mettere qualcosa non so se uscite o semplicemente lasciarle così infine il terzo pezzo del set e questo tartal neck che è in realtà una vera e propria giacca anche questa acquistata in taglia s che può essere utilizzata ovviamente sull'intero set credo proprio di utilizzarla tanto soprattutto nel periodo autunnale è fatta molto molto bene mi piace tanto alla cerniera qui avanti e anche due taschine laterali inoltre la cosa particolare è questa apertura sui vedete sui polsini ecco all'interno del quale potete tranquillamente inserire il vostro pollice e questi erano quindi i due set che io ho ricevuto da ocean sap part ovviamente come ho detto li vedrete indossati ci tenevo però a darvi un vero e proprio codice sconto che mi è stato omaggiato da ocean sap part ed è antonella 30 yt che sta appunto per youtube se cliccate all'interno dell'info box appunto sul link che vi ho lasciato avrete modo di accedere a quello che è il sito ufficiale di ocean sap part potrete fare qualsiasi tipo di acquisto non ci sono ovviamente condizioni e minimi spesa d'ordine potete veramente acquistare anche soltanto un capo e applicando al check out il mio codice che vi ripeto è antonella 30 yt vi sarà aggiunto al cardello uno sconto del 30 per cento che è veramente veramente tanto e io sono veramente contentissima di poter condividere con voi questo codice sconto che sicuramente utilizzerò anch'io per fare qualche danno perché è veramente un ottimo sconto cioè veramente aggiungere un 30 per cento al check out senza minimo spesa d'ordine è veramente un ottimo sconto ecco quindi io ci tengo a condividerlo con voi magari se volete acquistare qualche set per l'autunno o magari se volete andare in vacanza e volete comprare qualcosa da indossare anche durante il viaggio se invece volete prendere qualcosa anche soltanto per stare in casa per l'autunno così da stare comode date uno sguardo al sito fate tutti gli acquisti che volete aggiungete il mio codice e ovviamente vi porterete a casa un bel po di cose con un bello sconto ecco io in ogni modo vi ringrazio se siete arrivati fino a qui ringrazio voi ringrazio anche o chance a part vi mando un bacione ovviamente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video un bacio a tutti ciao